Ogni di ora vogliamo dire, con il nostro, alleluia, facci l'apostolismo, facci l'apostolismo, capitolo 2, ma prima dobbiamo cantare questo canto, cammino, 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 metto l'avanti che potete, ma prima dobbiamo cantare questo canto, e l'apostolo che lo cantiamo, poi, avete tutto al fondo alla prana, ma è un cammino, non è un cammino, non è un cammino, non è un cammino, non è un cammino, e l'apostolo che non ha, non è un cammino, ma prima dobbiamo cantare questo canto, come si vede, ci vedo la Brookings拍dola, ci vedo la scuola e la sicurezza, ci vedo la Salve Senza, con il nostro, alleluia, ci vedo la scuola e laamaan, ci vedo la scuola, ci vedo la scuola, Grazie a tutti. 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 , Grazie a tutti. , , , , , , , Sì, che grande è la sua benità, come è eterno, l'eterno è il netto di voi, così dice il Signore, camminate avanti, camminate di fare con sentimento, guardate il Signore e che sia la intenzione di portarvi avanti, di guardarvi, di liberarvi di ogni male e di ogni apparenza di male. Ed erano cose da come papà, di papà la come sarà con me, di edusano per me la come la cantaia, di edusano per me la come la salaria, ed è la cosa la macchia paia, l'eterno libererà di ogni stretta, camminate avanti, così dice il Signore, io sarò vicino a voi. Se voi camminate, io sarò con voi, camminate avanti, non guardate a destra, nemmeno a sinistra, ma guardate l'eterno che mi ama e vi vuole bene. Il Signore vi ha liberato di tante attenzioni della vita, nel ciò che vi siete combinati nel Signore. Il Signore vuole ancora aiutarvi di più. E la come sarà con me, la come sarà con me, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore di venti, lo dico. e la tua presenza, Signore, io so che mi vuoi sventare, io so che tu mi ami, io so, Signore, che mi protegge, che è Dio che fa le cose, Signore, io vedo i tuoi angeli, Signore, io vedo la gloria tua vicino a me, Signore, predica, annuncia con te vere, verranno tempi cattivi e malvaggi, ma ci forse nel Signore e ciò che Dio ti proteggerà, ti guasterà, ti impererà, di ogni male e di ogni apparenza di male, di ogni e Dio che fa le cose, cammina avanti, cammina avanti, segui la via del Signore e se no ti prenderà la cura di te, ti prenderà la cura del tuo popolo e di tutti quelli che fanno la mia volontà di te, e se no e quelli che fanno la mia volontà, lo dice Signore, noi facciamo la tua volontà e cerchiamo di farla, dacci la forza Dio, dacci la forza per ciò che è con la tua forza e possiamo fare la tua volontà. con la mia volontà, bene, bene, bene il nostro, allora vogliamo leggere, perché già se io potessi fare tutta la nottata, se io permette un pulino, gloria di Gesù, il Signore è nel mezzo di voi, lo sentite voi? Allora, il Signore è nel mezzo di voi, e 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 il Signore è nel mezzo di voi, il signore ci promette e se noi siamo di fare contentimento ci porterà e siamo di fare contentimento e ascoltiamo la voce del signore vogliamo ascoltare la voce del signore, io intenzione tante cose di fare qui, gloria di Gesù, e noi dobbiamo combattere, combattere contro al maligno il diavolo, gloria del nostro sole, e il signore il diavolo lo metterà sotto i nostri piedi il signore il nostro piede è vero, dice la Bibbia, lo dice l'apostolo Pietro, gloria di Gesù Satana, è come un luogo ruggente per poter divorare a tutti noi, gloria di Gesù, ma se noi siamo fermi lo vinceremo, tutti uniti insieme lo vinceremo con la preghiera e con la potenza che il signore ci dà, amè vedete, questi sono i doni antichi che avevano i fratelli, entrava una persona, spottuto a terra e subito battezzato con lo spirito Tano, al mio fratello di cosa, come si chiamava, qui vicino, un fratello di storia, disse fratello Tano nei tempi, nei tempi nostri, nei tempi nostri, nei tempi nostri, nei giorni, nei chiesa, e subito battezzato con lo spirito Tano, amè un fratello di quale lunga, ma l'erano un fratello, si prende i glorificati e non è sopra come la città, la forza dentro la chiesa evangelica, con l'intenzione che dovevo fare, chissà cosa dovevo fare, amè essendo sbattuto a terra e messo a piangere, con Gesù, e il signore battezzò con lo spirito Tano, e gli antichi glorificati per il nome storia, diventò anziano della chiesa, amè e quando il signore lo damò, fratelli, quel fratello si è visto in paradiso, il cielo con i santi, e quando ritornò nel corpo, diceva signore io voglio domani con te, non voglio stare qui, con tanti loro, amè e il signore ce l'ho preso, lui il glorificato da un socio non andò nella stanza, non ha fatto capire niente a modi, niente a nessuno, non è Gesù, andò e morì e qui è così, glorificatelo, il signore ce l'ho chiamò, ce l'ho portò, in pari e sono spontanei, non sono scritte nemmeno le lecce, anche i canti sono spontanei perché una volta è venuta una sorella qui vicino a casa mia, quando ho visto che abbiamo cantato i canti tutta una volta che il signore si prende in potenza. Cominciamo a cantare i canti, mia moglie suonava e io cantavo per la solennale cortopoli e l'onestore a altre persone nel suo paese che si donano convertiti in due famiglie, dicevano ho visto questi doni, io voglio che tutti abbiamo questi doni, noi sono tutti, ognuno abbiamo i nostri doni, ma è bello che tutti abbiamo i doni del suo. Allora, vogliamo dire fratelli, questo è il passo del passaggio. Allora, e dicono, si rifanno dello spirito sano, e come il giorno della Pentecoste, ecco, fatti degli apostoli, capito 2, versetto 1, e come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme di pari con sentimento, e di subito si vede dal cielo un suono, come i venti di Pentecoste, che soffia, e di erano i piedi, e di esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e appartano loro delle lingue spartite con il fuoco, e ciascuno d'esse si votò sopra ciascun di loro, e tutti furono i piedi dello spirito santo. Cominciarono a parlare lingue straniere, secondo me lo sfido da valore a vagionare, o in gerusalemme timonano, di chiudere i uomini benissuti, di ogni nazione di sotto al cielo. Con essendoci fatto quel suono, la nottitudine firma o no, e fu confusa, e ciò che ciascun di loro li udiva parlare nel loro, nel loro suo proprio linguaggio, e tutti stupivano, e si le eravigliavano dicendo, gli unigliarci. Ecco, tutti costoro che parlano un giovelli non cari dei, come non perdiamo noi parlare, ciascuno del nostro proprio nativo linguaggio, noi parti i medi, e amici e amici e quelli che abitiamo in sé in Mesopotamia, in Giudea, in Gaspologia, in Bondo, nell'Asia, nella Prigia, nella Panfilia, nell'Egitto, e nelle parti della Bibbia, chiede l'incontro a Cirene, e noi autentici romani, e giudei, proseiti, cretesi, arabi, chiudiamo la giornale e l'epote grande di Dio nei nostri linguaggi, e tutti stupivano, e stavano sospesi dicendo, l'un all'altro, che vuol dire essere questo? Ma gli altri capillando, dicevano, sono pieni di vino dolce, meredetto il nome del sole, ma Pietro, le vado simpie, con gli undici alzò la voce, e ragionò loro dicendo, uomini giudei, e voi tutti che abitati in Gerusalemme, sia di noto, questo, e ricevete le mie parole, nei vostri ovecchi, perciò che costoro, non sono ebri, come voi stimate, con così che, non siano più che le fiori del giorno, ma questo è quello che fu detto, dal profeta gioiere, e a terra negli ultimi giorni, dice al Signore Dio, io spanderò del mio spirito, sopra ogni carne, i vostri figlioli, e le vostri figlioli profetizzeranno, e i vostri giovani le danno televisione, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e in quei giorni io spanderò del mio spirito sopra i miei servitori, e sopra le mie serpente, e profetizzeranno, e farò corrigi di sopra del cielo, segni di sotto la terra, sangue, e fuoco, e vapore di fumo, il sole sarà montato in tenebre, la luna in sangue, innanzi che quel grande e illusso giorno del Signore venga, e avverrà chiunque, e i vostri figlioli, chiunque l'ha invocato, il nome del Signore sarà salvo, uomini di tre vite, guida queste parole, Gesù il Nazareno, uomo, di cui è potente, di cui, con potente operazione, prodigi, segni, i quali Dio fede per lui fa voi, come ancora voi sapete, ecco dico, per la determinazione, per lo determinato consiglio, e la provvedenza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi lo pigliaste, per mani nipi, lo conviccate in croce, e lo uccideste, nel quale Dio l'ha risuscitato, avendo sciolte le doide della morte, con giocicché non fosse possibile che gli fosse ritenuto, per ciò che Davide dice in lui, io ho avuto nel contino il Signore, davanti agli occhi, a ciò che egli è la mia testa, a ciò che io non ti ha smosso, perciò si è rammellato il cuore mio, mi ha suggerito la mia lingua, e anche la mia carne abiterà in speranza, perciò che tu non lascerai l'anima mia, nei luoghi sotterra, e non permetterai che il tuo santo, venga corruzione, tu mi hai fatto conoscere la via, della vita, tu mi riempirai di letizia, con la tua faccia, vuoi i fratelli, ben i tuoi, liberalmente, dirmi torna a pagliarca Davide, Egli è morto, ed è stato seppellito, e il suo monumento è appo a noi in fine a questo giorno, e la lunga essendo profeta, sapendo che Dio gli aveva con giuramento, promesso che dal frutto dei suoi lombi, e contro la carne, susciterebbe il Cristo, per farlo sedere, sopra il suo trono, antivedendo le cose, avvenire parlo, della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua, non è stata lasciata, il luoghi sotterra, e che a tua carne, non ha venuto a corruzione, esso Gesù, è il Dio suscitato, di che noi tutti siamo testimoni, e ladunque essendo stato innalzato, alla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre, la promessa dello Spirito Santo, ha spasso quello, che ora voi vedete e udite, quando si chieda Davide, non sia salito in cielo, anzi, e il Messerzo dice, il Signore ha detto, al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posti, i tuoi viti, per i scannelli, per i piedi, sappia dunque, sicuramente, tutta la casa di Freire, che quel Gesù, che voi avete così visto, il Dio l'ha fatto, Signore, è Cristo, ben detto, il nome del Signore, Oresti, avendo dito queste cose, furono confundi nel cuore, e dissero a Pietro, gli altri a posto, i fratelli, che dobbiamo fare, e Pietro disse loro, romperetevi, ciascun di voi, si è abbattezzato nel nome di Gesù Cristo, in rinnessione dei peccati, e voi riceverete, il dono dello Spirito Santo, penso che a voi, è fatta la promessa, ai vostri figlioli, e a coloro, che verranno, molto tempo a questo, e a quando, il Signore di Ostro, ne chiamerà, e con molte parole, così stanno loro, di comportare, dicendovi, salvatevi, da questa, perversa, generazione, fino a qui, la parola, del Signore, vediamo fratelli, che in questo passo, parla, del battesimo, dello Spirito Santo, poi dice così, la vostra Pietro, la promessa è fatta a voi, ai vostri figlioli, quelle che verranno, tempo a presto, e quando il Signore Dio, ne chiamerà, il Dio, salva, amè, amè.